buongiorno il mio instagram del mattino ma potevo non cominciare così con rebecca avete visto beatrice e qua abbiamo rebecca anche lei sta indossando uno dei body creati da camilla carina seguito dei tutorial ma se l'ha poi tutti modificati perché ha dovuto aprire modificare il modello diciamo nelle dimensioni perché le bambine sono minutine perché il filato era diverso e perché poi camilla ha ripreso l'uncinetto in mano da secoli e non aveva mai fatto cose del genere stupito ma ma anche perché si è seguita dei tutorial per praticare le incisioni l'incisione nel capo finito e bloccare i fili prima con il punto smerlo ma io per cui sembrerà normale perché tra di noi facciamo tante cose ma dopo quasi 15 anni mia figlia prende l'uncinetto in mano fa briga disfa si sceglie il filato e che filato si è scelta questo è il cotton di l'olocrea è un filato che io vi consiglio da subito soprattutto agli sciallare alle sciallare e sì anche lui è uno di quelli che si può abbinare con il soffio ma io ve lo consiglio in purezza fate uno scialle con molto lace con dei bei gettati con dei punti trasferiti trasportati allungati perché lui è bello non è un cable e gli assomiglia è un filato che fa tutto lui e lo consiglio ad un capo perché in quel modo lui è proprio lo so è un filato sottile ma asciallari ho visto fare delle cose che non so ecco e provate l'esperienza ecco io vi consiglio le esperienze al di là dei modelli che mi possono piacere qua e là e ce ne sono tanti ecco non è che mi mi sbatta per creare a tutti i costi qualcosa che colpisca l'immaginario perché ne trovo già di belli a volte mi capita onestamente parlando di stupire pure me infatti poi mi scordo tutto e ovviamente il gusto è il gusto però ecco ci sono dei momenti dove dico ah un veri un po' che bravo che bello no che brava che bello ah un veri sì a volte mi succede a volte dico ma remma bella ma cioè è come per la canotta della camilla ci ha messo una vita una tutto mi è successo ma non è un modello difficile c'è una foglia è veramente semplice da eseguire ci vuole un po' di attenzione mi sono distribuita mie marca punti insomma mi ha divertito creare una scollatura che donasse a camilla che particolarmente è esile non è scheletrica ma è esile la camilla ha un collo lunghissimo quindi con il v bisogna andarci cauti i v molto profondi non le donano e non la volevo piena di spigoli perché le bastano i suoi e anche nella scollatura posteriore insomma si intravede nel capo posato che è smussata non è una punta e mi piace le sta bene volevo un capo che vestisse che non fosse tutto un snudamento esposizione perché basta quest'anno abbiamo abbiamo visto di tutto come la mia figlia ho fatto un copricostume snudo che mi fa ridere mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio con il sissi quel punto infatti ve lo voglio mostrare per prepararvi delle copertine quindi delle vesti vesti carrozzine diciamo più che copertine per l'estate quando magari appunto il lenzolino pare poca roba però i bambini li vogliamo coperti perché in effetti entriamo usciamo magari da attività dove l'aria condizionata fa morire pure noi io mi ricordo in un supermercato se non avessi avuto una cosina che in casa mia chiamavano il mociolino che era una roba preziosa meravigliosa quel pizzo russo realizzato con quel mare seta ma quello bello quello proprio là che non mi ricordo mai come si chiama che mi è capitato per caso perché mi è stato regalato perché non piaceva la persona che l'aveva ricevuto non aveva mai capito che meraviglia fosse nessuno nemmeno io non conoscevo ancora quella tecnica ma soprattutto quella qualità di mare seta e cioè era una un pizzo splendido era misura ampia era un rettangolo era uno scialle molto ampio e che in casa mia si mettevano tutti come copertina ma una roba una ragnatela di pizzo ma si si avvertiva subito mi ricordo non so perché lo portai al mare forse eravamo inizio stagione giornata balorda mi ricordo stranamente l'avevo con me in borsa siamo entrati di ritorno dal mare con la mia amica carolina del circolo del golf non ve lo dico e insomma siamo entrati alla porcaus di ariccia albano comunque sulla nettonense una botta di freddo una botta di freddo e mi senti male immediatamente ma veramente da svenire secca lì e il mare l'avevamo lasciato da muo ecco non è che ero entrata accaldatissima o che sudata stavo perfettamente bene e sono dovuta correre al bagno rinfrescarmi appoggiarmi e non ci sono uscita non dopo mezz'ora perché avevo i sudori freddi che andavano ma veramente mi sono sentita malissimo e mi sono coperta con quella quella cosa mi guardavano tutti come se fossi stata pazza ma io vedevo la pelle d'oca addosso alla gente deve essere stata una giornata con un problema al condizionatore del supermercato ma ma io mi sono ripresa proprio grazie a quella cosa lì me la sono prima appoggiata sullo stomaco e poi me la sono avvolta sulle spalle e non ero snuda avevo una malietta dalle maniche corte in cotone quindi a volte cioè i bambini appena nati hanno un loro strano non equilibrio termico e vanno protetti ma spesso li proteggiamo eccessivamente quindi parleremo del sissi delle sue belle potenzialità e parleremo di quel punto che è stato ganso e si manifesta in quel modo perché il sissi è fatto così e perché ha usato un calibro maggiore quindi si può realizzare anche con calibri più vicini allo spessore degli filati scelti ma purtroppo sono quelle cose che si possono osservare solo avendocelo sotto al naso e tra le mani perché tanti effetti si perdono sia cromatici dei vari filati dei manufatti realizzati che negli effetti di texture di profondità il sissi è perfetto per quel motivo qua la camilla come ha visto il cotone se ne è innamorata qui girano scatole l'ho lo crea ma che ve lo dico a fare cioè non riesco a metterle via perché ho bisogno di vedere di guardare di toccare me li riguardi ce l'ho sempre in camera mia tra l'altro su delle pile di scatole abbiamo preparato lo spazio nello studio ma mi serve mi serve mi serve quando arriva camilla devo farle trovare messe via perché se no ho messo tutte le scritte abbiamo suddivise per colore per tipologie in decisione come le suddividiamo per colore o mamma però qui c'è lino qui c'è lino no no allora aspetta per tipologie sì allora anche per tipologie per colore ah mamma mia è bellissimo e lei insomma subito quando è arrivato il cotone guarda io dico che strano la mia figlia mi guarda i filati con quel modo perché sì lei tocca guarda quando arrivano le cose che bel colore però ecco non sempre con sì mi fai qualcosa ok ma l'occhio di chi sta per fregare qualcosa lo conosciamo noi io sì l'ho visto tante volte anche dalle mie allievi posa l'osso metti a posto metti lì ah che bello e mi ha fatto piacere insomma questa sua questo suo appassionamento e soprattutto la dedica che ha fatto alle cuginette alle biscugine come si chiamano le biscugine le procugine boh e ma che bello e poi sono le prime foto che vedo delle bambine con gli occhi aperti dormono sempre meno male per mia nipote che anche quella è una bella alessa che si addormenta si addormentava in piedi mia nipote da bambina mia figlia si addormentava in bagno ecco alla mattina svegliare loro due le bimbe mamma mia e sono stata contenta perché poi lei ha voluto interpretare il gusto della cugina che desidera cose non uguali ma simili quindi se è lo stesso modello in due colori diversi se c'è un colore perché anche lì dobbiamo un po' adattarci a quello che troviamo a volte no ma ecco c'è un colore che ci piace particolarmente sappiamo che garba lei allora ecco camilla ha creato due ha creato ha confezionato ha modificato ecco due capi simili quindi nella sorellina ha realizzato un volant sotto al collo poi c'era un particolare che abbiamo fruttato a distanza anche ganzo anche lì perché lei ha fatto una modifica e le mancava un giro però era un giro fondamentale per l'ancoraggio del volante a noi sembrano cose banali perché a noi che magari lavoriamo da tanto tempo che tante cose le abbiamo risolte ma chi si riapproccia o chi è alle prime armi anche quello che per noi sembra banale come soluzione non è poi ci stava arrivando da sola tra l'altro però la mamma rassicurante e quindi è stata una bella esperienza anche per me a distanza con mia figlia l'uncinetto in mano che partita delle formelle comunisco le formelle fate se già ha cominciato a un top no mica visto il modello ad uncinetto e dice preferisce l'uncinetto che i ferri perché lei sapeva tenere in mano anche i ferri ha anche tessuto camilla e le avevo regalato un telaio alla città del sole molto carino con a due licci e con il pettine a parte perché poi il negozio i telai in negozio in bottega i telai non mancavano manco a casa di tutte di più ce l'avevo mi sono tutti andati persi non ci voglio neanche pensare ne avevo uno russo bellissimo acquistato una fiera una fiera di artigianato dal mondo non mi ricordo quale evento romano non era natale oggi no 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 ma anche dove eravamo ero alla fiera di roma ma non era natale oggi non mi ricordo che cos'era la fiera di roma boh e ne avevo tanti ne ho acquistati di tanti anche all'euma piccoli recuperati da pezzi antichi ce ne avevo uno molto carino anche quello con due licci il pettine allora i licci erano quelli con le maglie fatte con i filati con il cotone non erano maglie metalliche ma il pettine era un frammento una porzione di un pettine di telaio antico ed era stato realizzato con delle sezioni di canna di fiume che anche lì un lavoro certosino e che bello mi ricordo anche il mio vicino di stand che che me lo aveva venduto che aveva diverse riadattamenti di telai fatti da lui e poi aveva dei mega quadernoni dei cataloghi con degli schemi di come si dice scusatemi di moci arrivo di armature varie belle bello bellissimo e poi aveva anche un sacco di belle rocche delle cose bellissime quei filati utilizzati per i tessuti chanel acquistai da lui ma c'è un occhio che vedeva proprio il mio occhio oltrepassava gli stand le parati ho un'antenna neoneone per il mamma mia spesso ci ho lasciato il cuore perché non è che si può comprare veramente se magari tutto tutto quello che ci piace soprattutto quando si viaggia in treno che si accarichi che non si può lasciare inconvense di tipo mi spedisca per favore o c'è da scappare veloce non c'è il tempo di andare all'ufficio postale del posto ne ho fatte comunque di cose e insomma sono contenta quindi qua avete rebecca rebecca ha realizzato questo sprone con motivo traforato camilla veramente ribadisce il suo amore per il cotton adesso si è scelta adesso si era già scelta due cake di luce in un tono di rosa cipria veramente bello così come si è scelta guardate qua l'ho fatti eh si è scelta in luce con questa colorazione strana che è tra il bronzo e il rame è veramente è bello allora il ve lo racconto poi se no mi viene lungo questa questa chiacchiera poi vi chiacchiero di quello vi chiacchiero dello sciale della titti che non sapevo come mettere in forma questa mattina perché ho ancora uno dei tappetini impegnati ecco che devo prendere assolutamente le forme a incastro in gomma di incastri da puzzle perché a volte per raggiungere le altezze sì ci sono delle forme dove abbiamo bisogno proprio di comporcelo noi il tappetone e li devo dire a camilla ad andare in cerca e un'altra cosa vi volevo ciao rebecca della zia ti vengo a prendere ti porto via allora a parte tutti questi vari amigurumi pipipi già parlano io non sopporto halloween proprio non è una cosa già la parola mi sta sull'anima non mi piace una cosa che proprio non capisco non mi interessa non mi piace posso dirlo ecco le formelline quante formelle ah c'è una cosa che vi devo far vedere poi è un video breve qua su instagram dove si mostra una costruzione da indossare realizzata con le formelle e ci sono tanti particolari veramente ben studiati che li possiamo adattare e che ci aiutano a comporre un un insieme che ci dà una bella vestibilità una maglietta quello cercherò spero in giornata allora qua c'è un golfino ecco io non amo lui è delizioso mi piace lo scollo ma anche la treccia ma non amo i motivi centrali nella schiena quando mi possono ricordare la spina dorsale l'ho già detto eh no 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 ecco magari tre motivi sì o i motivi alti sì o bassi ma no i motivi centrali nella schiena le trecce quelle cose lì non mi piacciono però il capo è bello molto bello anche il filato bellina questa formella la formellina è proprio carina mi piacciono questi colori sereni sono dei colori sereni ecco e abbiamo bisogno di tanta serenità tutti perché qua ci stanno facendo diventare matto lo dice anche il gattino con la testina fasciata sono degli amici grumi deliziosi qua ci sono delle viste che vorrei qua c'è un altro golfino che è un amore in moer kid moer kid silk lino sottile un capo io ce l'ho quelli sottili sottili che sembra da cucito e il soffio ad esempio ovunque voglia ma fare tante di quelle cose qui c'è un ragazzotto che fa la maglia ci sono dei bei topini carini la renna no vabbè ma la renna è proprio carino questo questa pagina ve la faccio vedere così ve la cercate perché io non ve la so pronunciare ecco poi vi fate il fermo immagine prendete appunti è delizioso allora qua cantieri cantifilati ciondoletti barche venezia venezia barche gondole scusami eh oh che poi vi sa tutta la storia della gondola che bella cosa la costruzione ad una gondola oh calzette causette che sono deliziose norlilano allora volevo farvi dei carini vestitini oh questo volevo farvi vedere io in questo momento di cosa ho voglia di cose semplici di prendere un bel filato che abbia un bel colore di fare una cosa semplice dalle maniche che ecco così ma mi piacciono così le maniche o tre quarti o così che poi magari me la piego un po' però mi piace che mi copra la mano sarà che io ho patito tantissimo i dolori alle mani e non sempre comodo il guanto quindi in casa ma la notte soprattutto mi venivano di quei dolori alle mani e ai gomiti ai polsi poi tolto il glutine ragazzi è cambiata la vita tolto il pomodoro e lo amo il pomodoro tolti i latticini anche se io come gruppo mangio la feta ogni tanto ho mangiato uno strachino artigianale non ve lo dico cosa è successo ma ce n'avevo una voglia e vabbè poi mi regolo insomma lo so quando posso svicolare con cosa mi organizzo prima e dopo ma non tutti i giorni qualcosa che non potrei ecco no non lo faccio quella cosa lì e se c'ho voglia di gorgonzola io però ecco ad esempio gorgonzola io non so come mai è proprio di quei formaggi di tua guà eppure io una volta al mese d'estate no però me lo mangio e sto bene perché me lo mangio con la verdurina giusta perché non ci metto cereali perché sto attenta lo mangio al pranzo non la sera e poi oggi poi che c'ho da mettere a posto avrò da mettere a posto sei quintali di legna oi mamma mia mamma mia mi sento già male anche perché fattisco ancora e posso mi dare la caduta della settimana scorsa allora eccolo qua questi golf che poi se proprio ci viene voglia facciamo due buchini lì se proprio ci viene voglia facciamo due buchetti là che se proprio ci viene voglia facciamo un doppio colore che fa lo scacchino che ti vedo non ti vedo ecco però ho voglia di niente di fare la maglia e di non pensare di non contare di fare proprio un modello che va su da solo e io tengo ferme le mani e le punte fanno da sole eh così e ce li ho eh ho dei bellissimi leane cardate ho una aspettate oh mamma no ma quella ve la devo far vedere perché ho iniziato un pezzo ma lo devo fare perché ma come se bella è un filato mi sto seta stampando in una maniera meravigliosa è un poi ve lo dico perché mi scappa ma bello ve lo vorrei far vedere perché non è più in produzione proprio quel colore ma è una roba e poi cosa c'ho c'ho tante ho dell'alpa cartigianale messa da parte per camilla ho della un sacco di filato tinto botanicamente in maniera magistrale meravigliosi messi da parte e ho delle lana islandesi che amo messe da parte ce ne ho poche perché ho iniziato un progetto grosso grosso proprio un grosso con tanti cambi colore devo rimettere a posto tutti i miei disegni povera me e lì me ne serve tanta tanti colori e quanti filati che ho poi tantissimi lo lo crea e allora che meraviglia ecco ad esempio questo questo lo potrei fare con un filato da necardate che non è più in produzione è proprio se beo mi ci avete visto fare un golf con quel filato lì a mia sorella per camilla se l'è ciucciato non ciucciato cuccato mia sorella la più piccola e se lo porto in barca e come se lo metto un lavorone da ostrega proprio e allora potrei fare quel confetto non ho voglia di lavorare i filati sottili anche adesso mi tocca lavorare in luce per camilla stona indecisa ho fatto un campione col 5 uno col 4 e mi sa che faccio anche il 4 e mezzo perché luce ve lo devo chiacchierare ecco lo vorrei fare lo potrei fare con un doppio confetto confetto messo doppio mi corrisponde tantissimo una bellissima gamma di colori a disposizione ma mi piace anche il dudu il dudu è un bicolore molto peloso che non è uno spazzolato è un brush ed è un trattamento che viene fatto successivamente al filato in alpaca è un misto alpaca l'olio crea ci so che ci sono delle non ho controllato gli altri colori e ecco lui lo farei semplice con gli scolli proprio così che è uno scollo rotondo ma che si appoggia bene sulle spalle ecco a collatino uno scollatino che sale leggermente ma che non è un serafino che a me i serafini mi sono mai piaciuti i mezzi colli no o sono altri che girano tante volte o mi piacciono scollati che tanto mi metto le sciarpe e gli scialli ecco questi ho filati un po melangiati che se non lo sono ce li creiamo ci facciamo dei belli cine e vai perché poi ho del buon cashmere che lo posso mettere insieme monocromatico facendo giungo uno perché sono tanti sottili perché me le prendo quando mi capitano le occasioni se posso me le prendo e me le metto lì perché o vuoi per un bel lace o vuoi che me li combino tra di loro nelle rocche poi le proteggo bene e non mi scade sta lì prima o poi arriva arriva il momento per tutto arriva il momento per tutto l'importante è non farsi quando si può non farsi scappare delle occasioni che poi sì sì finite ciao ecco come certi colori o certi filati eh sì ad esempio la il linette prima versione io l'ho amato ma di botto subito ecco era bellissimo per fare borse bellissimo per fare tappeti per la casa tappeti da tavolo eh per fare del bel tovagliato anche per lavorarlo su telei a cornice eh sì non da non impazzire attraverso un pettine ecco vabbè poi ne parleremo di tessitura ora adesso vi auguro una buona giornata devo andare al mercato poi mi devo preparare psicologicamente per la messa a posto della legna oi mamma mia ha messo temporali per domani e ti aspetta un po' che l'anno scorso la seconda mandata di legna ci siamo presi una fraccicata in quattro eh mi hanno aiutato anche i vicini americani aveva mollerci sporchi e mi ha fatto la muffa la legna perché a voglia te li farla asciugare va un beccato proprio nel periodo delle piogge e va bene allora vi auguro tante cose buone e poi vi chiaccherò vi chiaccherò del luce vi vi chiacchiererò di quello che farò a camilla vi chiacchiererò dello sciale della titti e del di scrigno che è un filato particolare mi è stato chiesto per bambini no non lo consiglio per bambini perché è un filato per bambini delicato perché rischiano di tirare i fili alla gabbia di quel soffiato no poi è un lucido che non lo vedo né per una femmina né per un maschio proprio non lo vedo per i bambini e quindi parleremo grazie a quella richiesta che mi è stata fatta qua sotto un vocale parleremo anche di nuovo di filati per bambini ciao a poi